benvenuti su soluzioni pc oggi vedremo come visualizzare le icone di risorse del sistema e file utente su windows 11 come sapete già da qualche edizione di windows queste cartelle queste icone principalmente non sono più visualizzabili appena installato il sistema operativo ma c'è un modo per poterle avere ugualmente e oggi vi mostrerò quale andiamo su start poi su impostazioni dal menu sulla sinistra andiamo su personalizzazione e qui andiamo su temi nella parte bassa sotto impostazioni correlate troveremo impostazioni delle icone del desktop clicchiamo qui e si aprirà una nuova schermata in questa schermata sarà sufficiente selezionare computer e file utente proprio come ho fatto io e avremo le icone visualizzate sul desktop qui abbiamo anche l'icona di rete e di pannello del controllo se volete una volta selezionate le icone che vogliamo visualizzare premiamo su ok ed ecco che le icone sono sul desktop spero di esservi stato utile scrivetemi nei commenti se avete qualche dubbio o qualche domanda iscrivetevi al canale per favore per avere altre soluzioni pc lasciate un like se vi ho risolto un problema e ci vediamo a un prossimo video ciao